Oltre 25 anni per sistemare meno di un chilometro di strada. Sembra assurdo, ma succede davvero a Rometta. Si tratta della via Giampaolo, che costeggia il torrente tra Saponara e la stessa Rometta. Nelle condizioni del torrente ci siamo già occupati alcune settimane fa, e la situazione è sempre la stessa. Spazzature e rifiuti ingombranti sono ancora lì. I residenti dei vari complessi ci hanno segnalato molti altri problemi, in particolare lo stato della strada. Portavoce delle proteste, il signor Giovanni Zanghi. I problemi di Rometta sono vasti. Si parla della strada, che da tre anni ho chiesto al vice sindaco Visalli, che se poteva mandare qualcuno affinché coprisse questi bui nella strada. E tempo fa mi ha promesso che avrebbe fatto questo lavoro, ma non è stato fino a questo momento effettuato. Poi c'è la spiaggia. La spiaggia non è stata livellata, non è stata pulita, non esistono servizi, per cui siamo in una situazione antigenica, specialmente il torrente attivo tra Saponara e Rometta, che nessuno ha preso fino a questo momento, da 1982, dei provvedimenti. Una situazione che anno dopo anno è diventata sempre più insopportabile per gli abitanti, che hanno spesso denunciato lo stato disegrato, ricevendo solo molte promesse. Finora sono stati coperti alcuni buchi nel tratto sottostante lo svincolo dell'autostrada. Nel 1982, continua Zanghi, i residenti hanno deciso di autotassarsi e acquistare alcuni cassonetti. I rifiuti, però, spesso non vengono raccolti dagli addetti, assente anche il servizio di disinfestazione dei cassonetti e di pulizia delle strade. Manca inoltre un impianto di illuminazione pubblica e nelle ore serali la zona rimane completamente al buio. Gli abitanti chiedono semplici interventi di manutenzione per vedere rispettati i loro diritti. Noi non chiediamo tanto, chiediamo soltanto che la spiaggia venga livellata e pulita, che la strada sia almeno migliore, perché abbiamo dei buchi in queste strade che le macchine si stanno rovinando e non penso che sia una cosa corretta un cittadino che paga la tarso, paga lì, ha diritto a qualcosa. Se io pago, ho diritto a un servizio, se io non pago, non ho diritto al servizio.